Luca Caboni, uno dei nuovi arrivi in casa Sanremese, come vanno questi primi giorni con i tuoi nuovi compagni? Abbastanza bene, ci siamo ambientati tutti alla grande, abbiamo accettato tutti quanti questo progetto dove sapevamo divenire una società con un presidente ambizioso, uno staff abbastanza importante, la voglia è quella giusta, quella di far bene e speriamo di non deludere le aspettative. Cosa ti ha convinto a dire sì alla chiamata di Riofo? Sicuramente Sanremo perché si sa che, sapevo benissimo di venire in una gran bella piazza, poi la telefonata del mister che comunque conoscevo e sapevo con chi stavo venendo qui ad avere a che fare, l'entusiasmo è tanto, speriamo che vada tutto come deve andare. Ti hanno parlato della tifoseria, dello stadio, comunque Sanremo è una piazza che ha un seguito abbastanza importante. Sì, come ho già detto so che Sanremo è una gran bella piazza e so che c'è una bella tifoseria, speriamo di portarla tutta a nostro favore. Un ultimo messaggio per i tifosi? Lottiamo tutti insieme. Grazie. 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 Grazie.